Mark, che una rossa, incredibile, così vicino a vincere! Sì, è stata una rossa molto difficile, con molta grip su questa traccia, specialmente con le tire vega, ho piaciuto. E' difficile da trovare a Freddy, è un pilota molto veloce. Questa rossa è stata fantastica, i risultati, i qualificazioni, la finale, specialmente il secondo gioco, è bello. Voglio prendere i miei bambini per continuare a supportare me, l'O4, la squadra, mi ha dato un'ottima chassi, un'ottima engine, e anche GFR, per le engine, ovviamente. E' tutto, grazie. Grazie! Grazie!